Ospedali scatta la fase 2 verso un graduale ritorno alla normale attività. Due le parole d'ordine per l'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sicurezza e gradualità, anche se si riprendono attività chirurgiche, prestazioni specialistiche e ambulatoriali, non sarà tutto il subito e non sarà come prima. Vengono creati progressivamente dei varchi per il controllo della temperatura, per la corretta gestione di una mascherina o dell'igiene delle mani e il paziente potrà accedere all'ospedale solo se effettivamente ha un motivo per accedere, quindi una prenotazione. Insomma, in ospedale si dovrà andare solo se necessario attraverso prenotazione anche per i prelievi, dove peraltro esiste il servizio zero code. Proprio per contingentare gli accessi dall'11 maggio, lo slot introdurrà anche dei tornelli elettronici. Il tornello, o comunque l'ingresso fra virgolette intelligente, ci permette di misurare la temperatura e contingentare il numero di accessi, per esempio in ambienti che non possono contenere più di tante persone. Per chi conosce Vicenza, un esempio che viene facile è lato San Bortolo, che è un ambiente abbastanza piccolo, non ci si potrà più trovare dentro in 50 persone. Tornelli anche all'ospedale di Montecchio e Arzignano. Le visite programmate, 10.000 quelle accumulate e sospese causa Covid, saranno riprogrammate, ma è indubbio che le liste d'attesa si allungheranno. Si apre intanto con orari pre-Covid, qualche giorno di ferie per far tirare il fiato ad infermieri e DOS, 250 con gli impiegati in emergenza Covid, ma l'attività non si ferma, sarà solo riorganizzata come gli stessi spazi, con un nuovo front office, sale d'attesa per il distanziamento sociale e l'invito ad andare in ospedale solo se strettamente necessario.